Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS Buongiorno da Alessandro Alciato per la puntata numero 15 di Storie di Serie A siamo tornati all'IBC di Lissone dove abbiamo invitato il nostro ospite di oggi Buongiorno Ciro Ferrara Ciao Ale, quindi sono il quindicesimo? Sì Sono arrivato con notevole ritardo direi Saresti potuto essere il trentesimo Prendilo come una cosa buona Tutto sommato va bene così Ciro, senti io volevo iniziare dalla tua carriera in generale nella tua carriera ci sono stati solo due club il Napoli e la Juventus mi spieghi dentro di te come convivono i ricordi e le emozioni due realtà completamente diverse quando giocavi tu era Nord contro Sud era il potere contro la resistenza era la Fiat contro i pericoli della disoccupazione era tutto contro il contrario di tutto Cominciamo ovviamente dal periodo che ho vissuto a Napoli è inutile nascondere nonostante il Napoli non avesse ottenuto dei successi però la rivalità era contro la Juventus quando arrivava la Juventus al San Paolo ovviamente c'era tutta una preparazione già durante la settimana e poi arrivare a quella partita quella partita praticamente era fondamentale per la stagione indipendentemente dal risultato finale della posizione in classifica però era importante battere la Juventus è sempre stata così rivale storica e ovviamente io in quanto napoletano in quanto giocatore del Napoli ovviamente sentivo tantissimo questa rivalità e devo dire che poi insomma il mio periodo coincide anche con alcuni successi storici anzi la Juventus le partite contro la Juventus hanno rappresentato proprio dei momenti di svolta mi viene da pensare alla partita al 3-1 a Torino l'anno dello scudetto praticamente noi vinciamo contro la Juve a Torino mi viene da pensare a una partita in Coppa UEFA ha ribaltato il risultato di svantaggio del 2-0 dell'andata lo storico gol di Diego forse uno dei gol più belli in assoluto che abbia mai fatto con il Napoli a Stefano Taccone insomma quindi tante cose che salutiamo Stefano Taccone ovviamente a cui fare il nostro grande abbraccio tra l'altro aggiungo questo io debutto il 5 maggio 85 in un Napoli-Juventus quindi non potevano che essere evidentemente queste le mie due uniche società e nel 94 c'è il passaggio alla Juventus tra l'altro una Juventus in difficoltà perché erano 9 anni che non vinceva lo scudetto quindi una Juventus che si stava ricostruendo e lì ovviamente perché la scelta di andare a Torino di andare alla Juventus fermo restando che ovviamente la Juventus mi voleva così come mi volevano anche altre squadre ed io ero arrivato a fine contratto il Napoli mi fece mi disse chiaramente che non mi avrebbe rinnovato il contratto perché aveva necessità di bilancio e quindi di vendere i suoi pezzi migliori e effettivamente fu così quindi io scelsi di andare alla Juventus consapevole ovviamente di quella che era la rivalità ma soprattutto per un motivo perché pensavo ed è stato così che la Juventus mi potesse permettere di rimanere a quel livello a cui ero arrivato con il Napoli e per me era necessario insomma avevo 27 anni quindi relativamente ancora giovane nel piano della Sarriera esatto hai fatto un bel riassunto di quella che sarà l'intervista perché sono tutti temi che ovviamente toccheremo nei prossimi minuti certo svilupperemo posso immaginare posso immaginare ma dovessi darmi proprio una definizione prima di cosa è stato il Napoli per te e poi ti chiedo cosa è stata la Juventus per te due definizioni stringate allora il Napoli è casa è casa mia io ci sono nato ho realizzato il sogno di tanti ragazzi comunque di poter arrivare in prima squadra arrivo anche in un momento storico per il Napoli perché il mio passaggio in prima squadra coincide con l'arrivo di Maradona a Napoli cioè arriva Maradona e poi ci sono anche io e quindi questo ha rappresentato una sorta di rivoluzione se vuoi la cosa incredibile è che questa rivoluzione vede come capo comunque un campionissimo ma poi piccolino cioè tutti aspetti uno grande no fisicamente invece questa rivoluzione parte proprio da Diego lui ha distrutto poi ne parliamo ovviamente tanto di Diego ha distrutto qualsiasi canone anche estetico del calciatore lui no? come dici tu uno magari si aspetta si aspetta un gladiatore vabbè poi generalmente quelli bravi bravi non hanno bisogno neanche di sfruttare il loro fisico ma hai detto la definizione di Juventus del tuo periodo juventino Juventus diventa poi la consacrazione definitiva una ribalta anche ovviamente a livello europeo perché vinciamo la Champions perché ho la possibilità anche di ritornare in nazionale effettivamente io mi sono trovato in un ambiente totalmente diverso da quello che era la mia città la mia squadra anche le mie abitudini però credo che sia stato importante per trovare nuovi stimoli nuove motivazioni e questo mi ha permesso poi di avere una lunga carriera anche se a un certo punto interrotta da un grave incidente però di una carriera che insomma posso essere assolutamente soddisfatto ho fatto fatica a raggiungere la 500esima presenza però ci sono riuscito in Serie A ovviamente e poi ti sei ritirato e poi mi sono no non è che mi sono ritirato mi hanno detto adesso basta ti hai detto che Napoli è casa è casa e ovviamente insomma è casa sei napoletano hai giocato nel Napoli e te lo dico te lo dico scusami se ti interrompo pur non vivendo a Napoli ormai da 30 anni quasi però per me è casa c'è la mia famiglia ci sono le mie origini e le origini non posso assolutamente dimenticarle ed è una casa particolare nel senso è una delle poche città in cui ancora i ragazzini e i bimbi giocano per strada tu hai iniziato nel cortile diciamo dove erano parcheggiate le macchine ma diciamo cortile, strada ecco ci racconti quegli inizi lì i tuoi primi calci guarda ti sembrerà paradossale ma la mia è una carriera abbastanza strana paradossalmente oggi cominciano a fare scuola calcio a 5-6 anni molto molto piccoli e molto spesso a 14 anni uno poi abbandona, lascia perché è anche un po' nauseato probabilmente a me capita di giocare nel cortile giù al cortile dalle 2 alle 4 nel condominio non si poteva giocare io puntualmente dalle 2 alle 4 stavo giù non avevo dubbi giocando con mio fratello con gli amici di mio fratello che erano più grandi mi mettevano spesso in porta non perché fosse più scarso ci tengo a dirlo ma ero il più piccolo e quindi di conseguenza andavo a finire in porta e quindi poi alla fine il mio primo vero provino io lo faccio a 14 anni cioè è una roba che nel giro di 3 anni mi si stravolge completamente la vita perché poi a 17 anni dopo la vittoria dello Scudetto allievi mi ritrovo in ritiro con la prima squadra e quindi da lì poi parte tutta la mia carriera però effettivamente insomma per cominciare a giocare a calcio ho cominciato nel Salvatore Rosa una squadra che era al Bomero è stata la mia prima squadra giocavo nei giovanissimi e l'anno successivo poi sono andato negli allievi del Napoli allievi B ho incominciato dagli allievi B poi allievi A vinciamo lo Scudetto mi ritrovo in ritiro con la prima squadra quindi un qualche cosa di molto veloce cioè io non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare anche perché prima facevo nuoto mini basket ho fatto un po' tutti altri anche altri sport altre attività ma era il tuo sport preferito il calcio eri bravo anche in altri sport ma ti devo dire no ero bravino anche nel mini basket però non c'era quel desiderio di diventare a tutti i costi un calciatore mi piaceva ovviamente giocare però non c'era questa fissazione in me di diventare a tutti i posti un calciatore quando ho cominciato mi sono reso conto che forse avevo delle qualità che mi potevano permettere di stare a certi livelli mi sembra incredibile pensare che tu hai iniziato a 14 anni pochi giorni fa un 15 anni esordito in Serie A sto pensando a Camarda del Milan esatto esatto mi sembra una storia pazzesca no è vero lui però saranno tanti anni che gioca già no esatto che gioca già a me è capitato questa cosa con mio cugino andiamo a fare questo provino ma neanche convinti poi così tanto convinti è che ci presero immediatamente e ci presero e poi dopo una settimana i miei genitori cosa che forse oggi non capita più i miei genitori dissero non puoi andare a fare allenamento perché devi studiare per fortuna il presidente Varriale chiamò i miei genitori parlò con loro e spiegò a loro che magari avrei fatto qualche allenamento in meno però loro volevano che io facessi parte di quella di quella squadra non è una brutta cosa per un genitore che ti dice pensa a studiare no assolutamente io devo ringraziare devo dire che ho anche promesso loro di impegnarmi ovviamente anche negli studi cosa che ho fatto regolarmente però oggi davvero capita che magari qualche genitore viene e dice mio figlio ha lasciato la scuola perché vuole dedicarsi interamente al calcio e quindi questo insomma non tutti riescono ad arrivare poi a certi livelli parlavamo prima della strada molti bambini iniziano a giocare e continuano a giocare cos'è la strada per un bambino in Napoli? è una scuola è una scuola se vuoi di vita di condivisione insieme ad altri ragazzi con quello che hai ti organizzi e fai le porte non ci sono gli arbitri gli arbitri da solo ovviamente come in tante altre zone ovviamente immagini in Italia chi porta il pallone deve giocare per forza però è sicuramente a volte anche chi porta l'arbitro però in questo caso non c'era esatto però devo dire che insomma non credo che questo sia un qualcosa di limitato soltanto a Napoli ci sono tante altre città che comunque è vero che oggi è molto più difficile trovare ragazzini che giocano per strada però quella è stata la nostra scuola insomma abbiamo iniziato probabilmente tutti quanti in questa maniera o negli oratori insomma tutti quanti abbiamo fatto un po' chi più chi meno abbiamo fatto questo questo percorso oggi oggi forse è un pochettino più difficile anche perché anche le società ormai si sono organizzate hanno strutture anche a livello giovanile e noi invece ogni tanto dovevamo andare a cercare qualche campo per andarci ad allenare però te lo chiedevo perché ancora oggi insomma quando si va a Napoli li vedi i ragazzini che giocano per strada mi viene un po' più difficile pensarlo a Milano anche perché insomma Milano sono strade poche poche piazze per poter giocare però è una particolarità positiva no? ma infatti da Napoli sono usciti o dalla Campania comunque sono usciti anche dei grandi giocatori a parte me e Cannavaro ne hai citati due due così a caso ma in strada si rischiano anche dei brutti incontri ovviamente tu hai mai hai mai dovuto scegliere ti sei mai trovato di fronte a un bivio hai mai fatto incontri che non avresti dovuto fare? no devo essere sincero non mi è mai capitata una cosa del genere ho vissuto la mia adolescenza assolutamente in un ambiente molto tranquillo con una famiglia molto unita una famiglia che mi ha dato dei valori e che mi ha fatto capire anche insomma come come stare al mondo come comportarsi e distinguere anche quello che può essere il bene dal male da bambino contro quanti possibili Diego Armando Maradona hai giocato? no uno ci ho giocato insieme possibili di Diego Armando Maradona non ne ho mai visti ho visto tanti ragazzi bravi anche che giocavano con me nei ragazzi del Napoli chi a volte per infortuni chi a volte insomma perché come si dice la testa non era proprio quella giusta però non è riuscito ad arrivare ma insomma questo non credo che sia un'esperienza che ho vissuto soltanto io ma tanti di quelli che sono arrivati in serie A sanno perfettamente che che magari all'interno delle squadre giovanili hanno avuto dei compagni veramente forti che però non hanno avuto la stessa fortuna o la stessa determinazione per arrivare a certi a certi livelli per stare a certi livelli non è non è una cosa semplice non è una cosa semplice non è o meglio magari tutti quanti noi possiamo avere la fortuna di un momento passa e tu lo prendi al volo poi però quel momento tu lo devi conquistare va mantenuto lo devi conquistare giorno per giorno con l'allenamento con l'impegno altrimenti non ci sarebbero state delle carriere così lunghe adesso qui siamo a Lissone e vedo dietro di me e davanti a me dei grandissimi campioni che hanno fatto veramente la storia del calcio italiano e non soltanto e ti rendi conto che comunque insomma anche loro hanno fatto dei percorsi molto molto lunghi tu hai vissuto un periodo se io dico particolare poi me lo spieghi bene tu immagino duro difficile che portava dietro tante domande perché per un periodo tu hai vissuto in sedia a rotelle no in realtà sono stato operato del morbo di Osgood Schlatter e che tu direi che cacchio è è legato alle ossa è legato praticamente capita a molti ragazzi nel periodo dello sviluppo non si è formata bene la cartilagine non si era formata bene la cartilagine del ginocchio quindi avevo continui problemi nello stendere nel anche quando stavo magari molto tempo seduto ad alzarmi e allora allora perché oggi non succede più e ti operavano mi hanno operato al ginocchio iniettando loro hanno detto del siero come per facilitare diciamo questa cosa e poi sono stato sommesso sulla sedia a rotelle il problema è che sulla sedia a rotelle cioè a parte che ero un pazzo ma giocavo a pallone c'era mio fratello che mi buttava il pallone e io così con la sedia a rotelle andavo a colpire il pallone di testa purtroppo qualche volta ho rotto qualche vetro a casa però però insomma è una cosa che oggi non si opera più non c'è più necessità tra l'altro non solo operato ma anche un mese con tutte e due le gambe ingessate questo avrà avuto 12-13 anni insomma quelle età lì una situazione che insomma portava dietro qualche paura o sapevi che insomma sarebbe stata transitoria posso dire ma a 12-13 anni non ci pensi neanche secondo me e quindi andavo a scuola con la sedia a rotelle però poi allora non avevo neanche in testa dire madonna mia questo mi può precludere no insomma sono sempre stato molto positivo da questo punto di vista hai parlato del tuo primo scudetto a Napoli quello con la formazione allievi cioè ti ha svoltato la carriera quello ti ha svoltato la testa che momento è stato? è stato un momento indimenticabile perché avevamo una squadra veramente forte vincemmo ai rigori con la Fiorentina lo vincemmo ad Agnano e insomma quelli sono bei momenti perché poi ci sono le famiglie vicino c'è il tuo gruppo diciamo di compagni e per noi era un qualche cosa di bello ovviamente non credo che a livello giovanile forse il Napoli aveva vinto un torneo di Diareggio probabilmente prima di noi con la primavera però era il primo successo per tutti quanti noi e quindi l'abbiamo vissuto in una maniera incredibile e poi eravamo convinti subito dopo quel successo di andare in vacanza ma pochi giorni dopo perché noi lo vinciamo il 30 giugno del 1984 il 5 giugno viene presentato Maradona quindi ci dicono no non potete andare in vacanza perché facciamo una partita esibizione al San Paolo per congratularci con voi per lo scudetto e in quella circostanza sarà presentato Maradona e quindi in quel momento Maradona premia noi ragazzini 17 anni poteva andare peggio no devo dire poteva andare molto peggio e quindi ci premia io ho ancora una fotografia di Diego mentre mi premia e ovviamente era un bambino e mai avrei immaginato che 20 giorni dopo mi sarei ritrovato in prima in ritiro con Maradona con gli altri professionisti perché noi dagli allevi il passaggio è quello di andare in primavera in primavera generalmente vanno e si aggregano con la prima squadra durante il ritiro invece per premio due ragazzi io e Patrizio Chiaiese tra l'altro molto bravo fumo portati con la prima squadra hai detto che era una squadra fortissima e ci ricordi qualche nome di quella formazione allora intanto c'era l'altro Ciro Ferrara che ha fatto una bellissima carriera tra Salernitana Palermo Massimiliano Favo è stato capitano ad Ancona per tanti anni anche a Palermo ha giocato c'era Ciccio Baiano insomma dai qualche d'uno è venuto è venuto pure magari adesso ne dimentico qualcuno però sicuramente questi qui forse sono i ragazzi che hanno fatto anche loro una bella carriera Primo Scudetto non si scorda mai non si scorda mai poi però ne sono arrivati due diciamo veri due con il Napoli ma perché gli altri sono finti no diciamo con il Napoli dei grandi dei grandi diamo questa definizione il primo ovviamente il primo successo per la mia città per la squadra per una tifoseria davvero molto molto passionale un qualche cosa che Napoli meritava oggi pensare che potremmo essere una sessantina una settantina che hanno avuto la fortuna di vincere uno scudetto a Napoli insomma vuol dire vuol dire tanto ci sono società non per ultima ovviamente la Juventus con cui ho giocato che sono comunque abituate a certi risultati le milanesi le romane vincere a Napoli ha un sapore sicuramente speciale speciale perché è un qualche cosa che rimarrà nella storia poi è chiaro che io ho fatto anche un'altra carriera importantissima di cui sono veramente felice però lì era più abitudine al successo e forse anche la maniera di gioire è sicuramente diversa probabilmente anticipato la domanda che ti stavo per fare che ti faccio quanto è più difficile vincere uno scudetto a Napoli e vale di più uno scudetto vinto a Napoli rispetto a uno scudetto vinto altrove ovviamente quello l'ho vinto nella mia città ma uno scudetto è uno scudetto un trofeo è un trofeo qualsiasi trofeo sia è un trofeo che ti porta a quel successo dopo un percorso lungo difficile fatto di sacrifici e quindi quando quando vinci gioisci non c'è niente da fare poi è chiaro che quando è la prima volta insomma la prima volta come si dice non si scorda mai però paradossalmente è stata la prima volta anche per me essermi trasferito e al primo anno arrivare a Torino vincere immediatamente lo scudetto piuttosto che la Coppa Italia quindi ogni successo veramente ti porta dietro tante cose e tanti sacrifici e quindi devi gioire li devi sentire devi essere felice orgoglioso soddisfatto del percorso che hai fatto qual è stato lo scudetto più clamoroso il tuo primo il tuo secondo o quello vinto dal Napoli Luciano Spalletti forse forse il primo potrei pensare al primo di questi tre scudetti non me ne vogliano ovviamente i ragazzi per loro per loro è come se fosse il primo scudetto per i ragazzi di Spalletti e quindi sicuramente per loro sarà quello però io non posso non non ricordare ovviamente il primo scudetto insomma allora è stato un qualche cosa di incredibile oggi lo scudetto l'ultimo scudetto del Napoli è andato in giro per tutto il mondo abbiamo visto gente festeggiare in tutte le parti del mondo e sono sicuro che anche quando abbiamo vinto noi il primo scudetto è successo ma c'è stata meno visibilità ma non si vedeva esatto senti sei tranquillo adesso sei sereno ok a Napoli Maradona ha vinto il primo scudetto con una squadra di scappati di casa firmato Antonio Cassano tu da scappato di casa hai qualcosa da aggiungere no credo di aver risposto comunque sei bastardo credo di aver risposto però ci vogliamo bene assolutamente no credo di avere già risposto in maniera educata in maniera direttamente diretta ti ha dato fastidio Ciro si beh insomma puoi immaginare non tanto non tanto per me quanto per rispetto secondo me anche dei miei compagni mi sono sentito in dovere di dover di dover replicare poi ogni tanto ci scherzo su sta roba però ormai è passata ormai è passata voglio sempre essere uno scappato di casa e vincere scappato di casa campione d'Italia esatto e allora apriamolo questo capitolo magico che riguarda Diego Armando Maradona un tuo amico carissimo ti posso chiedere innanzitutto come è nato il vostro rapporto te l'ho detto prima come è nato è una cosa incredibile è pazzesca questa storia perché nasce proprio nel momento in cui lui mi sta premiando al San Paolo io non lo so ma il solo pensiero che 20 giorni dopo mi sono ritrovato in ritiro con lui e con altri ovviamente grandi campioni o comunque dei professionisti già professionisti e mi ricordo il mio approccio dando del lei a tutti compreso ovviamente a Maradona mi scusi mi scusi signor Diego signor Diego dopo pochi giorni mi ricordo allora premesso che ho pensato va bene faccio il ritiro precampionato e poi mi manderanno con la primavera e quindi volevo godermi quel momento in modo particolare e anche sfruttare l'occasione di stare lì in ritiro con Diego e farmi fare l'autografo e quindi lui mi fa questo autografo e sopra la sua fotografia mette a Ciro con carino a Ciro come fa a conoscere già il mio nome io dissi cioè questo è appena arrivato già conosce il mio nome e non lo so è stata una sensazione che immediatamente come se mi avesse preso lui e altri ragazzi cioè ragazzi e altri il capitano Bruscolotti come se mi avessero un po' preso sotto la loro ala per farmi per aiutarmi a crescere e questo mi è servito tanto ovviamente insomma dopo dopo un anno un anno e mezzo io divento titolare quindi divento un giocatore importante per il Napoli ma pur sempre un ragazzo ventenne e la sua capacità comunque di non far pesare la grandezza è stata la forza di Diego perché Diego viene amato dai suoi compagni e non soltanto dai suoi compagni perché anche dagli avversari è stato amato e rispettato anche se preso a calci ovviamente a parte il fatto che era abituato bene perché di calci ne prendeva anche con noi da te in allenamento ovviamente però la sua grandezza sta proprio è stata in questo non mettersi mai al di sopra degli altri cioè mettersi al nostro livello perché è stato amato dai suoi compagni proprio perché lui si comportava in questa maniera non ha mai fatto pesare un passaggio sbagliato un intervento mal riuscito sempre è stato di incitamento altrimenti se non avessi avuto questo tipo di atteggiamento ti puoi chiamare come vuoi se non vieni a fare e Diego qualche volta saltava l'allenamento quando arrivi al campo e hai un atteggiamento strafottente che mandi a quel paese il tuo compagno ti fanno fuori ti fanno fuori il resto del gruppo ti fa fuori questo non è mai capitato con Diego questo poi tu mi dirai non pensi che non abbiate fatto abbastanza per te lo stavo per chiedere ecco appunto ma io già ti conosco perciò ti anticipo sì è vero è un rammarico che secondo me ognuno di noi porta dietro io devo dire che questo non vuole essere una scusante però forse non avevo neanche la personalità 18 anni 20 anni di andare da Diego a 21 anni di andare da Diego Diego occhio fermati cosa sta succedendo perché per Diego ci sarebbe stato bisogno di un percorso diverso probabilmente di professionisti che potessero aiutarlo nei suoi momenti difficili però oggettivamente io penso che ognuno di noi insomma può portare questo rammarico dentro non so se questo sarebbe servito ti dico la verità perché Diego era particolare da questo punto di vista però l'amore la vicinanza che ha sempre dato ai suoi compagni gli ha fatto meritare anche il rispetto assoluto per l'uomo per il calciatore va bene ma anche per la per la persona e poi ci sono due cose che ti devo dire che mi hanno fatto capire tante cose premesso che io abitavo sotto di Diego lui sopra e io sotto per un certo periodo quindi sapevo anche quando usciva la sera con la Ferrari che si metteva in moto e di conseguenza sapevo anche che il giorno dopo probabilmente non si sarebbe venuto a fare allenamento tant'è vero che arrivavo al campo oh ma Diego ragazzi lo vediamo domani poi magari lo trovavo tornavo dall'allenamento e lo trovavi che faceva allenamento nella palestrina che si era attrezzato nella sua cantinetta lo trovavi sul tapirulane che correva perché era così però ci sono stati due momenti per me importantissimi il suo addio al calcio alla bombonera lui mi ha invitato come unico italiano alla bombonera e il mio addio al calcio cioè dopo 14 anni Diego torna al San Paolo per la prima volta in assoluto era già tornato forse a Napoli ma non era mai tornato al San Paolo e in quell'occasione il 9 maggio del 2005 io organizzo una partita amichevole tra Napoli e Juventus quindi le mie uniche due squadre i miei compagni più vicini del Napoli e della Juventus e Diego torna al San Paolo torna per me torna per salutare il suo pubblico i miei compagni ovviamente mi hanno preso in giro e mi hanno detto Ciro non è stato mica il tuo addio è stato il ritorno di Diego a Napoli al San Paolo avevano ragione però lì mi fece un grande regalo io non non pensavo assolutamente che lui perché quando lo sentì al telefono e disse Diego mi farebbe piacere io per me oggi cioè quel giorno sarà un giorno importante il giorno dell'addio e ci terrei che tu fossi presente e lui mi disse immediatamente di sì però conoscendo Diego ho detto mi dice di sì ma magari poi non riesce a venire e invece venne e si prese tutto diciamo l'applauso del San Paolo bello è stato un bel momento e questi insomma sai che ne parlano ancora oggi lo raccontano ancora oggi non è una battuta ti ricordi quella volta che Diego è venuto a salutare Ciro perché veramente era stata una festa clamorosa della città incredibile incredibile sì poi ci sono stati altri momenti in cui ci siamo ritrovati a volte con le legend della FIFA la cosa incredibile è che tutte le volte in cui io magari arrivavo e lui era lì con o giornalisti o fotografi o tifosi che volevano salutarlo lui appena mi vedeva correva ad abbracciarmi sì mi ha voluto molto bene voglio chiedere ancora una cosa sulle sulle debolezze perché tu hai detto in effetti cioè io ero giovane io non ero io quello che avrebbe dovuto dirgli delle cose secondo te c'è stato qualcuno che non gliele ha dette per convenienza cioè che non l'ha fermato perché faceva comodo così non lo so ripeto Ale non era non era facile da gestire Diego non so se ci sia stato qualcuno che ha cercato da questo punto di vista di aiutarlo come ti ho detto prima insomma questo è un è un rammarico anche il fatto comunque di essere giovane è chiaro che io oggi ho 56 anni sono padre sono nonno anche e quindi ho un'altra maturità ho un'altra esperienza ho sicuramente qualche elemento in più per poter affrontare certe certe situazioni allora forse non non ce l'avevo probabilmente anche comunque il fatto che per noi fosse importante perché vedi che cosa succedeva quando Diego non stava bene per noi la cosa importante e anche per lui era quello di portarlo al campo che era l'unico modo per vederlo felice per vederlo distratto per vederlo presente con i suoi compagni e noi non potevamo far altro che far questo cioè cercare di convincerlo a venire al campo fai finta che io sia tuo nipote ovviamente per motivi di età non posso esserlo allora chi era Diego? tu come lo spiegheresti? e come lo spieghi a tuo nipote? in termini semplici chi è stato Diego? chi era? non ho nessun tipo di problema per me è stato il più forte giocatore di tutti i tempi non me ne vogliano gli altri ce ne sono giocatori straordinari di cui vado pazzo per alcuni giocatori ancora attualmente in carriera lui è stato qualche cosa di diverso quindi a mio nipote io dirò ok adesso le hai visti tutti quando sarà grande adesso le hai visti tutti bene non c'è niente da fare anche il ragazzino anche i piccolini conoscono conoscono Diego cioè lui è nell'immaginario di tantissime persone tantissimi tifosi che siano del Napoli o piuttosto di qualche altra squadra è stato assolutamente ha abbracciato tutti ha abbracciato tutti senza nessun tipo di distinzione e quindi questa penso che sia la sua la sua grandezza qual è la cosa più incredibile che gli hai visto fare in campo io lo vedevo fare in allenamento e un giorno mi ricordo credo che fosse Giuliani in porta a metà campo ha preso il pallone e era spesso fuori dai pali adesso appena mi arriva il pallone prendo e tiro in porta e gli fece gol l'ha fatto e gli fece gol ma se non sbaglio fece gol anche così sempre al Verona forse sempre a Giuliani che allora era ancora nel Verona da metà campo se ti ricordi la cosa più incredibile che gli hai visto fare fuori dal campo devo raccontare non lo so una cosa personale tua vivevate vicini se non c'è non la raccontiamo no 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 niente di di particolare vederlo vederlo felice per me era importante allora mi viene in mente mi viene in mente alcune serate fatte a casa mia tra l'altro con Pino Daniele che canta che suona e che e Diego che balla vicino alla porta che balla non lo so ho questa immagine di lui quanta napoletanità eh che c'era in una serata per me poi quando mi sono trasferito a Torino io ricordo ancora che avevo portato le cassette di Pino Daniele e i film di Massimo Troisi quindi persone a cui che hanno rappresentato Napoli che sono stati dei miti veramente cos'è stata la morte di Diego per te? guarda quando tu mi chiamasti Ale me lo ricordo ancora io ero da solo a casa ero sul divano e quando mi hai comunicato quella cosa non volevo crederci sono rimasto senza parole ho spento il telefonino perché da quel momento ho cominciato a ricevere tantissime telefonate mi sembrava tutto così irreale ho fatto una telefonata soltanto per avere una conferma perché anche tu avevi ricevuto probabilmente delle informazioni però non avendone la certezza io mi sono trovato senza parole ovviamente ho rimmaginato un po' tutto il nostro percorso il nostro percorso poi purtroppo sarei voluto andare a dare l'ultimo saluto a Diego ma per motivi di covid ovviamente non è stato possibile e quindi ne ho approfittato l'anno scorso per andare da solo tre giorni a Buenos Aires rivisitare quelli che sono stati i posti conici diciamo che Diego ha vissuto e e dargli l'ultimo saluto e mi sono immaginato lui che che mi ha visto lì a dire che cazzo fai qua Ciro mi sono immaginato questa cosa lui finalmente sereno ecco finalmente sereno e felice l'hanno detto tanti suoi amici questo finalmente è felice è paradossale questa cosa è paradossale però penso che sia la verità e poi me lo sono immaginato a prendermi per il culo che ci fai quando sono andato perché era adesso non so se l'hanno spostato o meno però era in un cimitero un po' fuori da Buenos Aires e io mi sono mi aspettavo insomma di entrare in questo cimitero e di trovare una cappella una cosa invece è come se fossi entrato in un campo da golf e non sapevo dove andare poi mi hanno indicato ovviamente non era non è accessibile diciamo era lì ti chiedo un'ultima cosa ti chiedo insomma sono più giovane di te non tanto più giovane non sembra però esatto questo era un assist all'amico quando quando si iniziano a perdere delle persone care con quei condivise si pensa in qualche modo alla morte si inizia a pensare a me purtroppo succede in questi anni purtroppo abbiamo vissuto dei lutti ho vissuto dei lutti di persone di amici tra i più cari perché abbiamo parlato di Diego ma non possiamo non parlare di Luca Vialli ho vissuto dei momenti storici dei periodi incredibili e purtroppo due degli artefici dei successi non ci sono più Luca ha rappresentato proprio il capitano per eccellenza per esempio un carisma una capacità di trascinare il gruppo una roba incredibile oltre che alla sua tensione cultura e capacità comunque di relazionarsi e anche quella è stata un momento veramente brutto difficile perché per noi ha rappresentato proprio il nostro capitano poi con Luca avevamo un rapporto particolare perché ci conosciamo dai tempi della nazionale militare ancora poi nazionale maggiore insieme le tante sfide contro le telefonate che mi faceva proprio nel periodo del 94 giugno 94 quando stavo per passare alla Juventus ma non era ancora non avevo ancora firmato e lui mi continuava a dire oh mi raccomando devi venire alla Juve devi venire alla Juve c'è Luca non puoi rompere le palle hai fatto due anni di merda che giocavi al centrocampo adesso non puoi rompermi le palle che vuoi che io venga lì per vincere no vieni qui vieni qui vedrai che vinceremo vedrai che vinceremo e aveva aveva ragione aveva ragione perché ci sono tanti tanti episodi che mi legano a Luca tanti momenti divertenti tante vacanze anche fatte fatte insieme ci racconti un momento divertente lo ricordi anche con un sorriso io ti posso dire che eravamo forse tornati dal ritiro precampionato e io dormivo a casa di Luca perché non avevo ancora casa trovato casa a Torino e lui ovviamente la mattina dormiva bello placido adesso le 7 mattina squilla il telefono io sono uno che mi sveglia che si sveglia presto suona il telefono ed era l'avvocata Agnelli che voleva parlare con Luca allora andiamo a chiamare Luca che scende hai risposto tu al telefono no no ho risposto io ho risposto la persona di servizio che era in casa e quindi va a chiamare Luca che arriva giù ma arriva in uno stato confusionale direi abbastanza la sera prima c'era stata un amichevole della Sampdoria che aveva vinto parliamo del periodo precampionato e Gullit era appena passato alla Sampdoria dal Milan alla Sampdoria e evidentemente l'avvocato gli ha chiesto Luca hai visto la partita sì sì ho visto la partita Gullit ha fatto un gol Luca dice sì sì ha fatto un gol dei suoi un tiro da fuori aria sì 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 avvocato e parla 5-10 minuti finisce la telefonata mette giù il telefono prende la gazzetta dello sport apre e Gullit aveva fatto gol di testa gli dice che cazzo gli ho raccontato io all'avvocato gli ho detto va bene Luca non ti preoccupare ma mi viene in mente anche tante altre cose un giorno torniamo da una trasferta e lui generalmente ogni tanto diceva dai raga venite a casa mia organizzano uno spaghetto e quindi siamo andati e come stiamo per entrare Luca si rende conto che gli erano entrati i ladri in casa e avevamo quattro di noi con Luca allora Luca entra dice ragazzi sono entrati i ladri in casa ovviamente tutti impauriti e Luca appena entrava in casa aveva le mazze da golf proprio all'ingresso di casa prende questa mazza dice ragazzi prendete le mazze da golf e ognuno nelle varie stanze andate immediatamente Luca prende sta mazza va verso una camera e tutti quanti noi dietro di lui si gira ma che cazzo fate dovete andare che si scema chi va Luca vai avanti tu vai avanti tu chi erano gli altri moschettieri Edi Livio Peruzzi questa gente qua questa gentaglia qui sicuro sicuro c'erano ma è vero che Luca ti ha chiamato al Chelsea quando lui allenava ti voleva portare al Chelsea chi te l'ha data questa informazione è vero ho fantasia me la sono inventata no no sì forse questo è un piccolo rammarico allora teniamo presente una cosa allora non erano anni in cui gli italiani comunque a parte Luca e qualche d'un altro però erano casi abbastanza sporadici non c'era questa voglia anche perché il campionato forse anzi non forse sicuramente più interessante più bello era sicuramente il nostro e però fondamentalmente io avevo ancora due anni di contratto Luca mi disse vieni qui vedrai ti troverai benissimo e io mi avrebbe fatto un anno di contratto e dici Luca io ho due anni qui con la Juve non me la sento di cambiare tutto e quindi è rimasto però un piccolo rammarico perché l'esperienza all'estero mi sarebbe piaciuta secondo me Luca mi avrebbe aiutato tantissimo in quell'esperienza così come mi ha dato una grandissima mano quando sono arrivato a Torino devo dire la verità per me è stato molto molto importante sapere quando è mancato ha voluto pochi intimi a Londra essere chiamato comunque dalla famiglia perché mi ha voluto in quel momento lì mi ha fatto capire tante cose lui è stata la persona più incredibile che hai conosciuto la Juventus sì cambiamo cambiare l'argomento e poi davvero non è neanche giusto scavare troppo nell'intimo invece ci sono delle cose che devono rimanere personali e magari non vanno neanche raccontate totalmente parliamo di di vittorio allora tu hai vinto tanto a Torino hai vinto la Champions League hai rigori contro l'Ajax la notizia è un rigore che cacciavo io il rigore il primo rigore quella è una notizia sì come è nata la scelta non lo so non lo so non me lo chiederei come è nata inventati una bella storia no allora qualche rigore con Napoli con Napoli l'avevo già calciato l'avevo calciato a Mosca l'avevo calciato con lo sport in Lisbona in casa tra l'altro anche decisivo quello lì Muno in Coppa Italia però fondamentalmente non mi era mai capitato di essere il primo rigorista e lì niente insomma siamo arrivati ai rigori e mi disse allora tu calci io pochi giorni prima di Livio che è un caprone di Livio un caprone mi fece un'entrata sulla caviglia e quindi avevo grosso dolore però il misto mi disse no no vai calci il rigore sì vabbè però calci il primo ho detto che sai ci sono ancora gli altri ho scelto io di calciare ho scelto io di calciare il primo sì e non puoi capire insomma il percorso che mi ha portato dal centrocampo al dischetto del rigore perché non solo io avrò cambiato centomila volte il modo in cui calciare il rigore ma soprattutto immaginavo quello che stessero pensando i miei genitori i miei familiari dalla tribuna o da casa che mi vedevano andare verso il dischetto e dire ma dove sta andando questo invece poi andò bene andò bene è andata è andata bene di lusso è andata sì Lippi ti ha conosciuto a Napoli ti ha allenato alla Juventus ti ha portato al mondiale come vice adesso nel mondiale del 2006 non ti chiederei niente perché davvero è stato è stato raccontato tutto ti voglio chiedere però come ti ha convinto a fare l'allenatore a far l'allenatore in che senso perché poi dopo a fare collaboratore collaboratore poi però avresti allenato esatto forse è stato quello l'errore di Marcello no devo dire che non c'è stato tanto bisogno di convincermi io avevo smesso da poco quindi fondamentalmente conoscevo ovviamente tutti i ragazzi è come se fossi stato ancora uno di loro tant'è vero che ogni tanto mi faceva giocare a me se mancava qualche d'uno entravo io a giocare però lavoravo già come responsabile del settore giovanile della Juventus lui mi chiese questa cosa e io l'ho presa immediatamente al volo perché per me era sicuramente un arricchimento del bagaglio tecnico e forse è stato anche quello che poi mi ha spinto a cercare di intraprendere la carriera da allenatore non lo so se è stato un bene o un male ma è stata quella probabilmente la spinta è stata una bellissima esperienza ovviamente vissuta se vuoi un po' dietro i riflettori perché ovviamente è lui era lui il responsabile era lui l'allenatore e di conseguenza tutte le cose ricadevano su di lui noi dovevamo soltanto cercare di tra l'altro in un periodo storico lo sai come era quel momento di mantenere il gruppo il più unito possibile devo dire che secondo me da questo punto di vista credo di aver dato il mio contributo così come anche in alcuni momenti ho proprio giocato allora ti racconto questo mi ricordo in allenamento che giocavi sempre bravo c'è il neurone che funziona ancora mi porta a ricordarmi no ma mi viene da ridere perché un giorno mi arriva una palla io giocavo a destra terzino destro mi aveva messo in quella circostanza mi arriva sta palla e arriva Pirlo mi viene incontro che giocava con me chiedendomi la palla dammela dammela è solo che ci aveva tre uomini addosso allora io l'ho guardato gli ho detto col cazzo l'ho giocata su Camoranesi che era largo a destra e lui correndo correndo continua la sua corsa mi passa vicino e nell'orecchio mi fa comunque il mio non era un consiglio io stavo per svenire quel giorno perché ho detto no vabbè e lì c'era la grandezza di Andrea Pirlo e lì c'era che nonostante lui avesse tre uomini addosso tu non ti preoccupare dammela comunque però mi ha fatto ridere questa cosa perché è passato vicino a me e mi ha detto io comunque il mio non era un consiglio invece hai detto insomma non mi sembra che tu abbia grandi ricordi della tua parte di carriera di allenatore l'errore è stato allenare la Juventus secondo te no non puoi considerarlo un errore al posto mio probabilmente chiunque avrebbe tentato quantomeno col seno di poi ovviamente le cose non sono andate bene nel percorso e di conseguenza uno potrebbe dire ma forse sarebbe stato meglio bisogna trovarsi in alcuni momenti e quello era un momento in cui io mi sono trovato e non avrei mai potuto dire di no e quindi nonostante mi sono come si dice fatto male e l'esperienza ovviamente non posso ritenerla un'esperienza positiva però mi ha fatto capire anche determinate cose la mia carriera insomma non posso neanche considerarla una carriera da allenatore devo dire la verità ho fatto un percorso ho fatto un bellissimo percorso con il Juventus Under 21 Sampdoria e poi la scena e poi la scena poi però ho capito che che non era il mio mestiere non ti divertivi? no non mi divertivi no mi rendevo conto che non ero il solito Ciro Ferrara quello che vedete tutti tutti i giorni e quindi ho capito che forse al di là delle qualità per l'amor di Dio però ho capito che questa cosa non mi faceva stare sereno grazie Ciro grazie a voi grazie Ale grazie a te grazie per esserti aperto anche insomma raccontando cose di persone che non ci sono più di due dei miei più grandi amici grazie Ale grazie Ciro ciao storie di serie storie di serie su radio serie a con rds grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni